Cattedrale di Saint-Esprit. Si trova nel cortile del liceo francese Notre-Dame-de-Seine. La chiesa, fatta costruire da Monsignor Hillerot nel 1846, fu edificata su un terreno considerato lontano dal centro cittadino e all'epoca presentava pochissimi insediamenti. Monsignor Hillerot, la guida spirituale dell'epoca, fu criticato per aver voler fondare una chiesa in un luogo deserto dove c'erano pochissime persone negli anni in cui fu costruita la chiesa. Il primo progetto della chiesa, più volte ristrutturata nel corso della storia, appartiene al famoso architetto Gaspare Fossati. A seguito dei gravi danni subiti dal tetto nel 1864 si decise di ricostruire la chiesa. Successivamente l'architetto dell'edificio fu dal sacerdote Antoine Giorgiovice e la chiesa fu ricostruita. Nel 1876 la chiesa fu dichiarata cattedrale. Nel 1922 furono portate in chiesa tre nuove campane prodotte in Italia. Nel 1980, tutti i dipinti dell'interno della chiesa furono rinnovati da padre Antoine Marović. Papa Benedetto XV nel cortile della chiesa. C'è una statua di Benedictus. Il papa è raffigurato con un rotolo di carta nella mano sinistra, a simboleggiare la giusta pace. La sua mano destra è raffigurata leggermente sollevata in aria per benedire. La statua, inaugurata nel 1921, è stata progettata dallo scultore Uattrini. La facciata occidentale dell'edificio ha un disegno simmetrico e graduale. Su questa facciata sono presenti due ingressi, uno grande al centro ed uno piccolo ai lati. Sugli assi laterali sono presenti balconi su due piani. L'asse medio più mobile termina con una forma triangolare. In questa sezione si ripetono colonne sui bordi e su entrambi i lati della porta fino alla fine dell'edificio. Notevoli rilievi con motivi floreali sulla facciata e la decorazione musiva contenente raffigurazioni religiose al centro dell'edificio. L'edificio è a tre navate e pianta basilicale. Le navate sono separate tra loro da colonne con capitalli onci.